Dal 28 gennaio chi usufruirà del servizio di trasporto pubblico locale a Ponte Cagnano dovrà pagare il biglietto dopo sette anni e mezzo di corse gratis. A stabilirlo una determina dell'ufficio preposto che ha sancito l'interruzione del contratto stipulato nel 2011 con CSTP e confermato con l'arrivo di Bus Italia, con il quale era stato permesso agli utenti di utilizzare gratuitamente le linee urbane 51 e 52. Alla base della decisione è una considerazione di opportunità economica. Il risparmio stimato, prendendo in esame l'esercizio 2018, corrisponde infatti a 45.412 euro.